Allenamento del venerdì per la truppa di mister Andrea Stremaccioni che continua la sua marcia di preparazione alla gara dell'Olimpico. Sul campo numero due si è svolta una seduta molto intensa che ha visto una prima parte prettamente dedicata all'atletica, al fisico con una serie di esercizi in cui è entrato anche il pallone ma soprattutto si è cercato di mettere benzina nelle gambe per l'appuntamento contro la formazione di Garcia, poi il consueto spazio alla tattica, infine una partitella con un lavoro ovviamente mirato a quelle che sono tutte le insidie di una gara contro la seconda forza del campionato che cerca anche l'accesso alla prossima Champions League, una seduta in cui i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppetti all'inizio tra i vari elementi impegnati c'era anche il giovane della primavera Pontisso a dimostrazione di quanto Andrea Stremaccioni comunque sta cercando anche di far integrare il giovane Friulano all'interno dei meccanismi della prima squadra oltre che in quelli molto rodati della primavera di Luca Mattiussi che avrà un impegno altrettanto importante in questo weekend per chiudere il discorso playoff nel migliore dei modi con un piazzamento ancora più importante proprio in vista del prossimo turno. Rimanendo però alle sedute della prima squadra in questa fase i ragazzi stanno provando anche a trovare la giusta intensità per quello che è un match non semplice, non banale in cui tra l'altro Totò di Natale che non ha svolto la prima parte insieme ai compagni cercherà ancora di impreziosire la sua stagione magari con altre reti e impreziosire appunto il suo record di gol in Serie A. Per il resto è ritornato stabilmente in gruppo Ghierme che negli scorsi giorni aveva lavorato per una porzione a parte dunque non ci sono problemi da questo punto di vista per Andrea Stremaccioni che valuterà le sue scelte in base a coloro che saranno al meglio o al top della forma dato che in questo finale ormai una partita a settimana si cercherà appunto la miglior soluzione, la miglior formazione per chiudere al meglio un campionato in cui l'Udinese vuole provare a strappare ulteriori soddisfazioni e magari qualche posticcino in classifica. Sul campo esterno si vedono anche altri due elementi della rosa che non sono impiegabili contro la Roma vale a dire Mollavaghe e Lucas Evangelista che comunque continuano il loro iter di recupero in vista di quelli che poi saranno soprattutto gli impegni della prossima stagione due ragazzi che torneranno molto utili a mister Andrea Stremaccioni per il proseguimento di crescita del gruppo Bianconero.